Scuole chiuse anche a Chiusi della Verna. Dopo l'Istituto Dovizi di Bibbiena, dove erano stati riscontrati due casi positivi al Covid tra il personale scolastico, un altro plesso della Retino il prossimo lunedì non potrà riaprire le sue porte agli studenti. A Chiusi della Verna è stato infatti riscontrato un nuovo caso di coronavirus in una scuola elementare, una maestra che in questi giorni ha avuto riunioni con alcuni colleghi. Il sindaco Giampaolo Tellini ha così disposto il rinvio dell'apertura della scuola elementare nei plessi di Chiusi, Correzzo e Corsalone, attività sospesa poi anche nelle scuole di Rassi, Natale e Chitignano, poiché le classi fanno parte dello stesso istituto comprensivo. Tutte le insegnanti sono in quarantena, compreso il dirigente scolastico. Per la prima settimana si tornerà dunque alle lezioni online, almeno fino a dopo le lezioni e il referendum del 20 e il 21 settembre, rispettando anche i tempi dell'isolamento a cui sono sottoposte le insegnanti che hanno già iniziato a fare i tamponi. Battenti serrati anche nelle scuole di Bibbiena, dove si ripartirà a distanza e anche in questo caso il rientro in classe, considerando anche le lezioni, potrà avvenire solamente dopo il 23 settembre.